Ok, adesso mettiamo il personale Secondo te che pica? Pica le AX? Eh, iniziamo a mettere il mondo Iniziamo a mettere il mondo Ok, ok, ok Sto mettendo un punto di colcato E si inizia Stiamo a scrivere winner finals Non so che ti vogliamo essere Final Contrere Ok, ti eravamo iniziato ragazzi Cartina si porta del vantaggio Con le AX Si tenta Si usa molto bene la Tu dici a sempre Io non ho mai visto nessuno Per dire che c'è tanto Assurdo Abbastanza Hai visto? Attenzione OI Attenzione OI Guarda la B di nuovo Stavolta non ha colpito Guarda che sta tenendo Un leg Dove di premere Mi si è fatto cringare all'inizio Dobbiamo impegnarsi Sì, sì 106 sopra Be out of shield Io non faccio un problema Mai a volte Fisso Ti credi? Il 11% è abbastanza Stavolta Stavolta Un po' E' un po' Un po' Un po' E' un po' Un po' guarda che ho fatto, guarda cosa ho fatto a casa guarda cosa sono fatto e io dopo ho fatto, no, farai matto cioè, fama un turno un'altra posa al controllo guarda adesso, è da quando è che è dentro al di colpi? è bellissimo questo quindi la true revival è estrema noi immaginiamo però io sono contento che cartina con il pilot il pilot è stato un personaggio che è stato molto sottovalutato quella ha presenzione, dove tu vieni quando era? io quello è solo la pilota quindi che avrei fatto un bel gioco anche a me non c'è qua ormai lo giochiamo così perché non c'è più chiaro ma la prima persona che ho letto è fico un sacco di cose è bello da giocare chi vuole la più in fogo e meno away in community ti vuole più in fogo e meno away in community vi usually is a bambino mi chiamava c'è stato anche la perfetta è vero, allora è un'altra persona che mi ha pensato questa infatti che non mi ha quella smash non ti fanno non ti fanno quando ti fanno non ti fanno cazzo mi ha diventato Marco il suo ultimo stock quel art smash Stavo io facendo... Guarda Sadler, preparato il domande a Sadler perchè se l'hai fatto prendere Si sta preparato... Minchia! Deve fare uno statement qui E io che frega le macchina Sparabone Non voleva una parte sbagliata non è quella Giusto, giusto così, però che il 25% avrete il fuoco... Si sa, non riesce Riesce a capitalizzare Non c'è almeno una volta vent'anni Esatto, non sei un vero card Fai schifo Attenzione però, attenzione a vedere qui E' bravo Sì, lo bigliano è la sua di macchina A questo punto, con Pyro... Ehm... C'è qualcosa di vero Ehm... Ehm... non è giusto Ehm... Morton... Non si pensa una ragazza Però... Ho visto che ho detto Chi non era bene... Minchia un bel nome che non muore Che non verrà sconfitto Che non verrà dimostrate obsolete Fai Reign 3 Eh sì, eh sì E allora... E allora... E allora... All'indicente stadio andranno a sfidarsi? Beh, penso all'atterrarsi Un'altra parte adesso Non è davvero Ma tipo quel vecchio character film animato con i topi Che è un tiro punto senza una prima che entra E non è una passata piatta L'altra Bianca è vera In controllo vita In controllo vita In controllo vita In controllo vita Questo è un po' awesome Mister Rag Non è satanico Beh Attenzione Adesso Violet femminica Prima è maschietto Uno Via Qui fermate le due tre minucce Se non ha tacco di minucce Rispetto Merom Merom sta prendendo colpi Ah punto io Si tenta Eh è troppo agile quella cosa Sì Il fatto che la spada proprio la lunga va con le arcate verdi E' troppo figo Lo devi solo prendere Molto Tuoi non lo sapete che la cosa si fissa la roma c'è più perché con la parola fiscati La roma c'è più Poi C'è la parola che operare Masi che c'è la parola che operare Il proprio Il proprio L'homa un proverne Bravo Bellissima L'ha fatto un po' più in alto Cartina a prenderà la prima stop Anche prima era così Andiamo un po' più in alto Prima di fare una presa di nonostava E' morta E' morta E' morta E' morta Ehi, questa cosa che ha fatto io non l'avrei saputo da fare Con il cuore Non sa come nemmeno si potesse fare Si Si appiccica, si attacca al muro con la sua spiglia E poi può saltare di nuovo Si La prima conoscenza del suo personaggio Ehi, l'ha studiato 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 Ehi No, la prima bella Questo lo fa l'ha studiato Sì, thi Precisamente Eh, Violet e se lo può parlare Eh, Titans Le Aegis contro Violet Che cosa vogliono operare? Violet. Non ho' altro senso Interessante Maria, Anglo, Logitra, Pin Temほ di comunicorni UUUM Ehi, il sniffer! Esatto, bravo! 1-1! Chi vince la prossima, ottiene il match point del match point! Segnate dai! Mamma mia! Due spettatori! Ragazzi! Mi noto se chi chi qui ti dice che ci fa molti di piusura con voto sono bot tipo 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 0-A, viola, 0-A, 0-A... Incontrati te! Si possono vedere... Oh! Alliancatevi! Oh! Commander Ruth eh! Tipo un Discord for small creamer si mette lo che sia... Oh! Una cringeata! Un mini jam! Un mini jam! 3-2-1! Ma se vuoi vedere qui? Ecco qui c'è ora! Ma secondo me... Ma secondo me chi c'è stato? Schiacciata! Schiacciata! Ah! Schiacciata nella vita! Prollone! Ehi, a pronome prima era morto! No! No! Oddio! Sono andato! Sono andato! Sono andato! Sono andato! Sono andato! Come sta succedendo? Aziz! Murillos! Sligos! 42! Perfetto! Però hai mandato la vita questa scelta! Esatto! Sì! 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 Non si rilazza dal livello! Non si rilazzo! Non si rilazzo! Non si rilazzo! Ma morti come quel bylet a 112 percora non trova ira! Eh eh! Mi sa! Però... Mi ha detto che... A mid-track! Non sta dentro! Sì! No! No! Eccolo! Il primo controllo del terreno! Lo sai! E' convinto! Eh! Perfetto! 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 Oh! Oh! Eh! Oh! 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 Perfetto! Oh! Matura del minuto! Superfetto! Ti imp Kalifetto! Sì! È stato bronze! E' stato l'opera! Sì! È vero! Un bit piglia! La situazione è fatica! No! Ovvero! Un 2300 mill bene! Eh! Beh! Sì! Ho detto! Ho detto che ha visto lo stesso! hai visto? però 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 è qua mi sa che c'è una piattaforma è una piattaforma però è Paira è 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 Anche se lo killa, è difficile da entrare. Adesso l'ho cominciato, la seranta è l'ultima. Perché Byron è più difficile da pigiare. Un gioco di 4 stages. Stages non è più forte. E infatti prende anche il terzo game. Match point per Marco Castelli da toccare. Noi qui abbiamo una vasca piena di lettame. Per Dente, per Sadler rischia. Non è quel programma di video dove... Jackass. Sì. Per me si apre il top in mezzo e cade nella vasca di lettame. Non capiscono così. Va bene anche lui, quando... E poi ci mettiamo tutte le telecamere e mettiamo un sacco. E contro le lettere, però deve fare intanto poi c'è il controllo. Ah, giusto, diciamo, tipo, togliti gli occhiali contro le lettere e mettiamo cadere. Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Beh, non c'è, non c'è. Non c'è. E gli occhiali si fai. E mi fa girare. Vediamo se Sadler ci regala un gamefire. Uh, il bel Eroch. Bel Eroch. Bravo. Se no era morto. Anzi no, era morto. E non c'è. Ma perché andò? Il B... Bella botta. Sì, guarda dai, non credo di contacchi, ma non mi dà la difficoltà a tirare l'alora Ufff Come è stato l'annora? Come va bene? E' нужно parameters Ha abbiamo effettato di impostare invece La스ch David Abbiamo uno straniero di vantaggi Easy, ma... ...e' la certa più carina ...e' la certa scioglio ...e' la... Uhhh bel wait! Che bisogna avere combo di sardino ...e' la restringa ...e' la... ...e' la... ...e' la... ...e' la... ...e' la scuola ...fretta ...a che non tecca ...e' la scuola ...e' la scuola ...e' la scuola ...e' la scuola Marco è più sicuro è più sicuro in questo momento è più sicuro è più sicuro chi sono io per dire chi vincerà oh sono andata dire Marco non sta riuscendo a farlo del segretario di solito sì ora è stato all'ergo ero 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 erro Senti Mi piace un po' Attenziamo eh Bella un smash Angolo è alfa di muo Assurdo questo Mi imbalda la situazione da così A così Basta Oh guarda lo sta però Intimidissima Quello rinca non lo voglio Non dirlo fuori Non c'è Non è rinca Un po' di nitra Che Senti 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 Prima Marco provava Senti Senti Della Senti la manica il signor riccardo ameli ricordiamoci parente il compositore non è la manica il compositore non è la manica il compositore non è la manica e non è la manica il compositore 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 non ho bisogno di fox però attenzione bravissimo lì sembrava essere il compositore come al solito e questo è il compositore sarebbe morto lì ma non c'è sicuri perché ma non c'è brava un spugnico non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è senza ridere attenzione ma non c'è ma non c'è ma non c'è ma non c'è bellissima ma non c'è wow ottima situazione per Sadler e io vedo che sta space time dorm si si sta un attenzione molto contento ma perchè questo è il primo è la prima stop cam E' come... ti ha sperato troppo E' un smash che lo succhia E' periclarare una perge a lui Se non farà basta Molacchi Novo Ciao Domenico Benvenuto Stai andando via E' vero Ma stai andando via? E' vero Prima o poi andrà via E' vero E' vero E' vero Non lasciate neanche voi cose Non hai capito No, lasciate neanche ragazzi No, non hai capito Ma non hai capito E' vero Non hai capito No, no Che l'ha messa in me Non ci fai E' vero E' vero E' vero Ed è vero E' vero E' vero E' vero E' vero Inizia a crescere Mamma mia Sardegna Uno che ascolta il partaglio Il loro frutto Adesso basta Non si riesce a Sardegna 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 Ora sei un po' ingrippato a fare una Legendary Axel Ciao Legendary Axel C'è sto un po' di riparne Sì Ok adesso si apre C'è stato un po' triste Però C'è cariclissimo Buonasera Non so Guarda l'ha sentito Che lui è cazzato Da chi viene Da chi viene Sì ragazzi Sembra sempre che Ah no Ah no Non dire mai l'ultima parola Mi sono un po' Cappelli Vedi che prova a fare gli air smash Però non riesce perché Sardegna Arriva la prima Sardegna E la sta recuperando spesso Così Però strano Beh Marco lo sta provando molto La sta prendendo sotto Pia Sardegna Sardegna Bellissima Sardegna Inizia anche Sardegna Mi avia Stambello qui Siete a per cento Bruttissimo questo Che fai Odiatelo Non odiatelo Cattina è bravo a trovare queste situazioni Per salvarsi il culo Eh già Quindi Se vi mette le sud Vorrei Non dobbiamo evitare Una cosa Mi chiami